Italia da Nobel a Giorgio Parisi, il premio Nobel per la fisica, il premio rende onore all'Italia e alla sua comunità scientifica, ha commentato il Presidente della Repubblica Mattarella. Le elezioni amministrative, definitivo, il dato delle urne, al centro-sinistra sei capoluoghi, tre al centro-destra, nove al ballottaggio, i contraccolpi sul governo, strappo della Lega, i suoi ministri non partecipano al voto per la riforma fiscale. Il dolore del Papa per il dossier sugli abusi nella Chiesa di Francia, vicinanza alle vittime ma anche il riconoscimento del coraggio della denuncia, ora un cammino di riconciliazione, afferma la conferenza episcopale francese. Il capitano Kirk pronto a volare davvero nello spazio, William Shatner, l'attore protagonista della serie Star Trek, a 90 anni è pronto per partire grazie al fondatore di Amazon, tra una settimana il decollo. Edizione delle 20 e 30, buonasera a tutti voi, bentrovati, un Nobel che parla italiano, l'ambito riconoscimento internazionale per la fisica va a Giorgio Parisi, fisico teorico dell'Università La Sapienza di Roma e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. Da lui arriva un'esortazione, bisogna investire nella ricerca, dichiarato Marco Burini. It's coming Rome, bella Giorgio, tifo da stadio, complimenti a schiovere, Italia di nuovo mondiale in questo anno eccezionale, ma questo fisico bestiale che vince un Nobel per la fisica per nulla casuale, sapevano tutti che lo meritava da tempo, e lo vince per i suoi studi su fenomeni caotici e apparentemente casuali. Nel giorno della gloria non parla a caso, ma con passione. Ci vogliono cambiamenti strutturali perché l'Italia possa diventare un paese accogliente per i ricercatori, italiani o stranieri. Oggi non lo è, dice Parisi alla Sapienza, dove ha studiato e per anni ha insegnato fisica. E lo dimostra il fatto che in tanti vanno dal nostro paese all'estero e pochi vengono dall'estero in Italia. Insomma, questo Nobel è l'ennesima occasione per investire su scienza e ricerca, che resta sempre una voce, anzi una vocina nei bilanci dei vari governi che si susseguono nel nostro paese. Gli studi di Parisi sui sistemi complessi, studi altamente teorici e complessi, hanno avuto ricadute importanti in settori come meccanica statistica, fisica delle particelle, fluido dinamica e materia condensata, super computer. Questo scienziato romano classe 1948 è un geniaccio poliedrico e curioso che nobilita, con il sesto Nobel per la fisica fatto in Italia, una scuola centenaria che ha ancora voglia di indagare e ragionare. Dal bosone di Higgs a realtà come reti neurali, sistema immunitario, stormi di uccelli in volo che possono spiegare comportamenti di gruppo umani come le elezioni o la borsa, e la pandemia ovviamente. Parisi ha osservato, ipotizzato, dimostrato, ma con il suo sorriso timido e sghembo ci tiene soprattutto a saldare un debito con i suoi studenti, i giovani che ereditano un mondo sempre più complesso e fragile. Cambiamenti climatici sono una minaccia enorme per l'umanità ed è estremamente importante che i governi agiscano, ma agiscano in maniera risoluta il più velocemente possibile. Il voto delle amministrative che ha interessato quasi tutte le principali città italiane non poteva non avere ripercussioni nazionali e le forze politiche si interrogano sui risultati con un occhio ai ballottaggi in programma tra due settimane. Luciano Piscaglia. L'esito del voto a Roma e a Milano è la fotografia di una tornata amministrativa destinata a lasciare segni profondi nella politica italiana. A Roma, Virginia Raggi, duramente sconfitta alle urne, fallisce anche l'obiettivo minimo del ballottaggio ed esce dai giochi. A Milano Giuseppe Sala conquista invece al primo turno, la riconferma e, nonostante la più bassa affluenza alle urne della storia milanese, ottiene oltre 50.000 voti in più rispetto alle precedenti amministrative. Avevo la consapevolezza che potevamo fare un risultato del genere perché, proprio guarda, molto banalmente, l'ho letto, non ci sono altre verità, l'ho letto negli sguardi dei cittadini e evidentemente ho letto bene. Oltre a Milano, il centro-sinistra conquista al primo turno anche Napoli e Bologna, ma è costretto al ballottaggio a Roma, Torino e Trieste, da un centro-destra che paga le divisioni interne nella scelta dei candidati, ma ora cerca di ricompattarsi per tentare di pareggiare 3 a 3 i conti nelle grandi città. Noi ovviamente parleremo a tutti nelle prossime due settimane, bisognerà serrare i ranghi il più possibile perché adesso chiaramente il confronto si polarizza. Sconfitta senza appello invece per il Movimento 5 Stelle, che ha perso consensi non solo a Roma e a Torino, ma ovunque si sia presentato da solo. È finito il Movimento 5 Stelle, direi, la stagione storica in cui si andava orgogliosamente da solo in passato a tutti i costi. Tra 15 giorni, quindi, i ballottaggi scriveranno la parola fine sulle amministrative 2021, ma è evidente che in più di un partito la resa dei conti è già iniziata. E il voto amministrativo finisce per riversarsi anche sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Oggi la Lega si è ritirata dal voto sulla riforma fiscale. Fredda la reazione del Premier Draghi, il programma del Governo non si ferma. Augusto Cantelmi. I contraccolpi del voto si ripercuotono il giorno dopo sull'attività di Governo. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera alla delega fiscale con la riforma del Catasto, ma i ministri del Carroccio disertano la riunione. Una decisione seria, spiega Draghi, ma l'azione del Governo continua e l'approvvedimento approvato è composto da 10 articoli da concludersi in 18 mesi. Ma l'impegno che il Governo prende oggi è che nessuno pagherà di più o di meno. Cioè le rendite sui cui si basa la tassazione oggi restano invariate. Le rendite catastali dunque restano invariate. Non ci sarà un aumento della tassazione sulla casa, promette Draghi. Stimolare la crescita attraverso una riforma del sistema delle imposte e riduzione del carico fiscale, l'obiettivo dell'esecutivo. Si parte dalla semplificazione del sistema fiscale e dall'eliminazione dei microtributi. La progressività del sistema resta come il contrasto all'evasione fiscale per ridurre le tasse. Non intende aumentare il gettito complessivo, ma come ha detto il ministro Franco, diminuirlo. Perché oggi è fuori linea rispetto agli altri paesi. Da noi le aliquote sono più alte. E' ancora prevista la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, dell'IRES, sulle società e la rimodulazione dell'IVA. Per quanto riguarda le imposte locali, l'IMU ad uso produttivo in futuro dovrà affluire ai comuni. Il via libera è arrivato senza il sostegno della Lega. Non abbiamo votato perché la delega non contiene quello che era negli accordi, la spiegazione del leader del Carroccio Salvini. Non voto della Lega alla delega fiscale perché non contiene quello che c'era negli accordi. Il maltempo si abbatte in tutta Italia e si sposta anche al sud. Un tornado ha colpito il centro storico di Catania con ingenti danni. Forti piogge sul Piemonte, la circunvesuviana a Napoli è allagata. Secondo Coldiretti, in un solo giorno si sono registrati 20 nubi fragi. Chiuse per frane in Liguria, la statale 35 dei Giovi e quella del Turchino in entrambe le direzioni. Famiglie sfollate e isolate nel Savonese, a Roma allagamenti e alberi caduti. Il fiume Po è salito di 3 metri in 24 ore. Codice giallo in Toscana per le mareggiate. Ancora piogge temporali nelle marche. Ed ora ci spostiamo invece a Parigi dove oggi è stato presentato il rapporto sugli abusi nella chiesa di Francia, dolore dal Papa. Un lavoro rigoroso. Le vittime 216 mila. Cristiana Caricato. La Francia sotto shock, presentati oggi a Parigi, risultati di un'indagine commissionata dai vescovi francesi sugli abusi commessi da chierici e laici su minori negli ultimi 70 anni. Rivelazioni che hanno umiliato e ferito la chiesa francese dal 1950 al 2020, secondo un'inchiesta indipendente, almeno 216 mila persone hanno subito molesti e abusi da parte di sacerdoti. Un numero che addirittura sale a 333 mila se si considerano anche reati commessi da laici impiegati in strutture ecclesiali. Un abuso sistematico, come ha spiegato il presidente della commissione Jean-Marie Sauvé, che ha visto il coinvolgimento di preti e religiosi in una cifra che oscilla tra 2.900 e 3.200. Dobbiamo prendere atto che la violenza sessuale nella chiesa non sia stata completamente sradicata. Per anni è stata mostrata indifferenza profonda e persino crudele verso le vittime. Nel report è stata denunciata la mancanza di ascolto, la cattiva gestione dei casi che mirava a proteggere l'istituzione piuttosto che a tutelare i minori. Non solo, negligenze, carenze, omertà e insabbiamenti hanno mostrato una chiesa che non ha saputo o voluto prendere misure necessarie per estirpare il male. Nonostante gli sforzi di Benedetto XVI e Francesco per far luce sulle pagine più buie degli ultimi decenni. Nelle parole di Monsignor Eric de Moulin-Boforte, presidente della conferenza episcopale francese, la vergogna e la richiesta di perdono. Scuse che non placano la rabbia delle vittime. Papa Francesco ha espresso il suo dolore per l'ennesimo scandalo che travolge la chiesa, per le ferite subite dalle vittime, ma anche gratitudine per il coraggio nella denuncia. Ora si apre il tempo della purificazione. Il Papa chiede di pregare per le vittime, per la loro guarigione. Ed ora il capitolo Covid. Mentre in Italia continua a scendere il tasso di positività, nuove precisazioni e raccomandazioni arrivano dall'Agenzia Europea del Farmaco a proposito della terza dose di vaccino. Sentiamo Cesare Cavoni. La terza dose del vaccino fa parte dell'applicazione delle strategie vaccinali nei paesi europei che resta responsabilità delle autorità nazionali. Lo ha precisato l'EMA specificando che la dose di richiamo può essere presa in considerazione, ma nessuna raccomandazione può essere formulata al momento circa i tempi i soggetti cui destinarla. E oggi l'Agenzia Europea del Farmaco ha autorizzato anche la terza dose del vaccino Spike Vax di Moderna, somministrato almeno 28 giorni dopo la seconda in soggetti gravemente immunodepressi, over 12. E ora le regioni cominciano ad organizzarsi. Molte sono già partite, come Lazio e Piemonte. La Lombardia si dichiara pronta sulla base delle indicazioni che verranno diffuse dal Ministero della Salute e dalla struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, con un richiamo a partire dal sesto mese dopo la seconda dose. È emerso che la regione ha ben impostato tutte le attività da fare. Siamo ad 8 milioni di persone che hanno almeno una copertura con una dose o dose unica. Questo vuol dire 87%, 83% di vaccinati. L'Italia ha fatto squadra, sta facendo squadra, sta avendo dei risultati a mio avviso eccellenti, si può fare sempre di più. Per quanto riguarda i numeri dei contagi sono 2.466 positive test individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute in aumento rispetto a ieri, così come le vittime in un giorno che oggi sono 50, mentre ieri erano state 37, 0,76% il tasso di positività in calo rispetto all'1,3% di ieri. È associazione per delinquere la grave accusa mossa dalla Procura di Milano al professor Massimo Galli e ad un'altra decina di docenti perché avrebbero pilotato alcuni concorsi universitari di medicina legati all'Università degli Studi di Milano nel 2019 e nel 2020. L'inchiesta dei carabinieri del NAS nata dal racconto di alcuni studenti nel marzo del 2018 che denunciarono di aver ricevuto una richiesta di soldi per superare il test di sbarramento per accedere alla facoltà di odontoiatria alla statale riguarda 13 procedure di selezione, tutte indette presso la statale tranne una all'Università degli Studi di Torino. Fiducia nei nostri ricercatori è stata confermata dal rettore della statale Franzini. Un'alleanza educativa sempre più ampia e allargata, così il mondo sarà più fraterno. Papa Francesco ha aperto in Vaticano l'incontro dei rappresentanti delle fedi mondiali rilanciando l'appello per un patto educativo globale. Paolo Fucili. Il futuro dell'umanità dipende dagli insegnanti. Le istituzioni educative affermano ad una sola voce le religioni del mondo sono un cantiere aperto per costruire un umanesimo della fraternità. Francesco siede fra il patriarca ortodosso Bartolomeo e l'imam Al-Tayeb. Come rappresentanti delle religioni vogliamo manifestare la nostra vicinanza e gratitudine a tutti gli insegnanti. Giornata mondiale unesco degli insegnanti ed educatori, una professione da valorizzare e anche retribuire il giusto da parte dei responsabili delle nazioni, chiedono i leader religiosi convocati dal Papa in Vaticano per rilanciare il patto educativo globale proposto due anni fa da Francesco con l'intento di rabbivare impegno e passione dell'educare. Educazione, spiega oggi Bergoglio, è accogliere l'altro così com'è. Mai più ammonisce usare Dio per giustificare odio, violenza, fanatismo o discriminare minoranze. L'educazione, aggiunge, fa capire anche che uomo e donna sono uguali in dignità. E oggi, conclude, dopo avere tollerato sfruttamento e saccheggio della casa comune, vogliamo essere voce della natura che grida per la sua sopravvivenza, formando noi stessi e le nuove generazioni ad uno stile di vita più sobrio ed ecosostenibile. A Bedelemme compie 50 anni l'opera di solidarietà voluta da Paolo VI in occasione della sua visita in Terra Santa nel 1964. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Suora Male ha lavoro col suo piccolo studente, un ritorno in classe decisivo non solo per le lezioni di logopedia dei bimbi della scuola materna, ma per tutti i 190 ragazzi sordi dell'Istituto Effeta di Bethlehemme. Il 50esimo compleanno dell'opera voluta da Paolo VI e condotta dalle suore dorotee di Vicenza segna anche il momento più difficile della sua storia. Un anno e mezzo di pandemia ha messo in ginocchio la già precaria situazione economica dei territori palestinesi. Le famiglie dei ragazzi non pagano le rette da due anni, i confini sono ancora chiusi al personale volontario. Diventa difficile per noi, ma anche e soprattutto perché noi dobbiamo assumere altri maestri per aiutare i ragazzi a avere il livello giusto che hanno perso durante questi due anni. La sordità è la seconda causa di disabilità tra i palestinesi per la frequenza dei matrimoni tra consanguinei. Due dei cinque figli di Tagrid sono sordi. Grazie ad Effeta la maggiore ha appena superato la maturità. È indescrivibile la gioia che ho provato l'estate scorsa quando mia figlia ha superato l'esame. Se penso che fino a quattro anni parlava solo coi gesti, sentirla parlare normalmente mi ha ricompensato dei sacrifici fatti in questi anni. Il lavoro didattico è accompagnato dal supporto sociale e psicologico alle mamme, specialmente se provengono dai villaggi poveri ed isolati. Il primo passo è far accettare loro il bambino. La frequenza della scuola è fondamentale e purtroppo a causa della pandemia alcuni bambini si sono ritirati. Sostieni Effeta è la campagna di solidarietà della Fondazione Giovanni Paolo II. Un'adozione a distanza può cambiare la vita a questi bambini e permettere alle suore di continuare una missione importante per la Terra Santa. Questo istituto Effeta viene incontro a un problema reale. Non udenti sono tantissimi e in un contesto dove ancora non c'è una cultura di formazione e di inclusione di queste persone dentro la vita sociale. E voltiamo pagina con la finzione che diventa realtà oltre ogni immaginazione. William Shetner, l'attore protagonista della serie TV Star Trek, a 90 anni è pronto per partire per una vera missione nello spazio, grazie al programma voluto dal fondatore di Amazon, Bezos. I motori si accenderanno tra una settimana esatta. Vedrice Bossi. Il capitano Kork torna nello spazio, ma stavolta ci va per davvero. Non salirà a bordo dell'Enterprise, ma della navicella spaziale progettata da Jeff Bezos. A darne l'annuncio è stata proprio la Blue Origin con un tweet sui social. William Shetner sarà uno dei quattro passeggeri della New Shepard nel lancio in programma il 12 ottobre. Nessuna conquista della galassia, il volo durerà solo 11 minuti, ma basteranno per imprimere un nuovo record. Dopo quelli raggiunti con le pellicole di Star Trek, il protagonista della saga più amata al mondo diventerà anche la persona più anziana che abbia mai viaggiato nello spazio. A 90 anni Shetner si è detto pronto quindi a schizzare verso il cielo a 3600 km all'ora, arrivare a 107 km dal mare e superare il confine con l'atmosfera. È da molto tempo che sento parlare di spazio, ha detto. Questa sarà finalmente l'occasione per vederlo. Torniamo in Italia con una notizia aggiunta da pochi minuti. In redazione è stata confermata dalla Cassazione la condanna di appello del Borsellino Quater per la strage di via D'Amelio e i depistaggi. E sono dunque definitive le condanne all'ergastolo per i capomafia Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e quelle per calunnia per Calogero Pulci, 10 anni, e Francesco Andriotta che ha ottenuto un piccolo sconto di pena da 10 anni a 9 e 6 mesi per la prescrizione di due calunnie ai danni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino. Mentre da una terza accusa di calunnia sempre ai danni di Scarantino è stato assolto. Convalidata dunque la sentenza della Corte di Assisi di appello di Caltanissetta del 2019. Mi fermo qui. Grazie del vostro tempo. Vi lascio alla programmazione di TV2000. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.